L'offerta è in sacrificio per voi. Quante volte io cerco di fare tante cose e non guardo te, che hai fatto questo per me. E parlare con Gesù così. Lui è deciso sempre di andare avanti, andare alla faccia. Prendiamoci oggi un po' di tempo, pochi minuti, cinque, dieci, quindici, davanti al croce fisso, forse, o con immaginazione, vedendo Gesù camminare decisamente verso Gerusalemme e chiedere la grazia e avere il coraggio di seguirlo da vicino.